HP e Aruba, una società Yulet Packard Enterprise, annuncia la nomina di Serifadia Channel Sales Director for Europe, Middle East and Africa. In questo ruolo, Adi guiderà il team dedicato al canale collaborandovi a stretto contatto per consolidare le partnership con rivenditori e distributori della regione ed esplorare nuove opportunità che favoriscano la crescita del business della società e dei partner. Il canale si trova in una situazione particolare. Le aziende stanno attraversando una fase cruciale, disvolta, per la trasformazione digitale, spesso ne sentono la pressione e hanno il compito di promuovere e migliorare ulteriormente il ruolo della tecnologia al proprio interno. Per il canale ciò significa sia nuove opportunità sia qualche sfida da gestire, dichiara Serifadi. Sono convinta che un partner strategico come HP e Aruba sia fondamentale per aiutare i partner ad avere successo in questa transizione. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutti i nostri partner dell'area EMEA per raggiungere questo importante obiettivo. Le aziende hanno bisogno di nuove tecnologie e di partner che le supportino nel concretizzare le opportunità offerte dall'Edge, l'industria del networking deve evolvere insieme ai propri clienti per anticiparne esigenze e criticità, commenta Morten Illum, EMEA vicepresidente di HP e Aruba. Il patrimonio di esperienza di Serif ha consolidato lavorando con il canale EMEA mette HP e Aruba nella posizione ideale per accrescere la market share e rafforzare il portfolio di canale. Grazie per la visione!